Sì, sì, veramente, mancano poche partite, la distanza si è pure aumentata, però noi come giocatori, professionisti, non so come andrà a finire, però so che daremo il massimo ogni partita e cercheremo di onorare questa maglia. Sì, io di solito sono centrale, la difesa, sì, pure nell'europeo, la partita che ho fatto è fatta da Tersino, è una situazione che si deve difendere di più dalla mia parte, cercare di spingere da parte dell'esame, è stato scelto così, io sono a disposizione e non c'è problema a nessuno di farlo. Sì, infatti se siamo in questa situazione che siamo oggi è perché c'è qualche limite, però i ragazzi sicuramente hanno dato tutto, con i nostri limiti che abbiamo, abbiamo dato tutto, la voglia non è mancata mai, abbiamo provato senza concedere nulla arrivare al gol, abbiamo avuto occasione, però è andata così, dispiace a noi, dispiace alla maresa dei tifosi, capiamo loro, ma cercheremo di onorare e lottare fino alla fine, senza sapere come finirà, però so che daremo tutto.